Questo servizio offerto da Sicula Trasporti dal 1977 Tecnologia ed Ambiente. Cinque giornate alla conclusione di questa season per quanto riguarda la Sicula Leonzo che ha 50 punti in classifica e attualmente seconda forza del campionato a 7 punti da Ligia Virtus nel cuore della settimana con una doppia seduta mattutina parte atletica invece tattica di natura tattica appunto nella parte pomeridiana. Il gruppo agli ordini di mister Sebi Catania e Marco Di Bella si è messo a disposizione anche dei nostri microfoni nella fattispecie con Ibrahim Massacò, Fabio D'Agosta e Santo Privitera per analizzare la partita di Rosolini e riprendere anche la vittoria di Via Grande. Partiamo da Santo Privitera, capitano nella vittoria del Francesco Russo con Santo Privitera, focus chiaramente sulla prestazione importante sulla vittoria di Via Grande ma anche sull'obiettivo, quello di vincere anche contro il Rosolini di mister Trombatore. Si parte anche con una considerazione finale, se questo possa essere poi anche l'anno dell'Igia Virtus che ha 7 punti di vantaggio, anche episodi favorevoli ai giallorossi che al di là di essere appunto migliore difesa appunto hanno vinto domenica in un campo importante quello è quello di Giarr. Sentiamo Santo Privitera. Sì, sì, avevamo preparato la partita propria per chiuderla già il primo tempo perché sapevamo che il Via Grande lottava per un obiettivo che è quella, lotta per un obiettivo che è quella la salvezza, invece noi abbiamo altri obiettivi che sono quelli di raggiungere nella migliore posizione i playoff, quindi siamo andati lì con una rabbia importante, chiuderla subito nei primi 45 minuti e ci siamo riusciti. Andiamo in un campo ancora più difficile dove loro fanno la loro amma, il loro campo, quindi dobbiamo andare lì ancora più concentrati, ancora più cattivi perché sarà una battaglia già dal primo minuto e noi servono i tre punti per posizionarci nella migliore posizione per fare i playoff. La bravura loro che ci credono fino alla fine, poi possibilmente qualche svista di qualche abitro, un po' di fortuna loro, però la bravura dell'Igea Virtus c'è pure e giustamente loro vogliono andare a raggiungere questo obiettivo che è il primo posto. Dallo scorso capitano a Fabio D'Agosta che vuole essere protagonista in questo rascio finale per il miglior ripiazzamento possibile della Sicula Leonzio, parla anche di se stesso, del proprio contributo che può offrire la causa bianconera aggregatosi da dicembre ad oggi, parla anche soprattutto della sfida contro gli Amaranto per capire anche come sia possibile battere questa squadra Arcigna che da tre anni gioca per salvarsi. Andiamo in un campo difficilissimo dove loro cercano punti per salvarsi, quindi è chiaro le partite vanno diminuendo, cerchiamo di portarci tutte queste partite tre punti che sarebbero fondamentali e poi all'ultimo tireremo le somme. È una squadra un po' difficile da affrontare, soprattutto sul proprio campo, perché fanno del proprio campo la propria forza. Ogni anno si fanno i campionati sempre a salvarsi, però ci riescono, quindi significa che qualcosa di buono questa squadra ci ha. Non è stato facile da dicembre ambientarsi di nuovo in un altro gruppo, però grazie ai ragazzi piano piano ci stiamo mettendo, quindi speriamo intanto di arrivare all'obiettivo, poi personalmente di metterci qualcosa in più che sia la parte finale del campionato. Speriamo di noi i play-off. E chiudiamo il nostro approfondimento con Ibrahima Sacco, che è stato titolare nelle ultime due partite, nelle ultime due vittorie, quelle contro Giarre e contro Sporting Via Grande. Due prestazioni autoritarie di esperienza, due partite che poi tra l'altro sono state anche condite dal gol, dal primo gol in carriera con la maglia della Sicura Leonsi, un gran bel gol, era il gol dello 0-3. Sentiamo Ibrahima come commenta e ovviamente come ringrazia i difensori centrali, i suoi colleghi, i suoi amici. Appunto saluta Francesco Fascetto, saluta Giuseppe Librizi, Alfio Chiavaro e anche Maurizio Bonfatto per i consigli che gli danno durante anche gli allenamenti. Stiamo lavorando bene, i ragazzi stanno bene, il mister sta facendo il suo lavoro. e poi prima pensiamo a Rosalino e poi gli altri. Stiamo lavorando bene, siamo sulla giusta strada. Loro mi aiutano, a parte Fascetto, Alfio, Librizi, mi danno mani, anche il mister Maurizio Bonfatto. Anche prima il mister mi aiuta sempre, mi parlava sul telefono che devi fare questo, devi migliorarti. e sto seguendo questo lavoro. Ringrazio sempre il mister perché mi ha fatto un campione secondo me.